allora dove si va? agricampeggio? gioia selvaggia e fabio si chiama cecina agricampeggio cecina gioia selvaggia e fabio si chiama a tutti i modi stasera grigliatina e mojito a tutta l'aranda e vabbè è così è una vitaccia non lo metto il navigatore no sicuro? sicuro secondo me no la so la nuova mascotte del camper che chiameremo? pippo gianchira gianchira parliamo io e te ti vedo un po' arrabbiata cosa è successo? perdiamo tempo perché tu devi fare i tuoi video e quindi? quindi sei sbagliato strada no no non è felice gianchira perché abbiamo preso il navigatore ma io non lo guardo al navigatore e poi si sbaglia di nuovo strada guardo questo è uscito ora è tutto chiaro finché non era oscuro aiuto ma che avete fatto a materattino praticamente? che succede bro? guarda ho detto a babbo e i tuoi booster di farli per ultimo va bene? così rimangono più caldi ma poi non vorrei mica anche la birbina beh per forza sì? sì sì uè barman momento time ma lo stai facendo a modino per belino? sì, col testino in acciaio ora è 9.34 di domenica mattina ma qui sono già tutti in forma il tempo a dire il vero non è proprio bello io adesso potrei anche assicurare a bozervi un birrino vero? ora alle 9.34 ascolta ho già fatto tutto stai sicuro? eh, sono in piscina ho abbassato la temperatura corporea ora sono pronto per ricominciare oh no sei partito un caldo stanotte? caldo? stanotte era molto molto caldo dovessero evogare ciao funziona? funziona? abbiamo fatto la prova dell'acqua eh? per ora va che si fa? che si fa? si è messo a piove si è messo a piovere tuona c'è vento però si è fatto il bagno in piscina anche stamattina una mezza spiscinata l'hanno fatta sicché va bene così e ora si sta venendo via si va a fare un giro al decadro non ci sono da pigliare due robe e poi si va verso casa si, si ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo quante stelle ci girano intorno se mi porti a ballare la brava si, ci stavo